Ciao a tutti, questo è il video per il concorso di... è il video per il concorso di Lessie Channel 3 Allora, io non so se sono molto brava a ballare però quasi tutti mi dicono balla, vai, vai a fare uno spettacolo così io sinceramente non so se mi trovano bravo comunque, magari lo sono e io non lo vedo e volevo dire che comunque, anche se non mi sceglierai, non importa perché non so se lo faccio bene, ma a me piace ballare allora, ne approfitto di questo concorso comunque, se mi scegli, sappi che sarò felicissima anche perché ti seguo molto e ti stimo ehm, comunque ehm, del resto ehm, inizio la canzone di sottofondo è all'Alba Sorgea 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.